Siamo con Davide Chiurazzi di Radio Salentuosi e Radio Padagna. Qui abbiamo il sud e il nord. Il sud e il nord. Io sono a favore dell'Italia e voglio con le due radio coprire tutto il territorio. Io e il mio amico Fausto, perché ormai Fausto Terenzi è un amico, un fratello e un compagno d'avventura. Di che cosa si occupa come trasmissioni, come programmi? Quali sono le cose che stai seguendo principalmente? Ecco, questa è una domanda imbarazzante, perché non ci occupiamo assolutamente di nulla. Andiamo a pancia, ci piace ridere e scherzare, ci piace per un'ora far passare ai nostri ascoltatori spensieratezza, voglia di fare nulla, ma nello stesso tempo non essere volgari, essere un po' come la radio che Fausto Terenzi ha creato. Come si fa a coniugare il Salento con la Padagna? Perché al di là delle buone intenzioni però ci sono sempre queste accredini tra le diverse parti d'Italia. È molto semplice, basta essere se stessi. Io mi trovo benissimo sia a Radio Padagna che a Radio Salento. Tu dove sei nato? Io sono nato a Milano, ma non è il problema di dove sei nato, il problema è che se credi in un qualcosa, nord-sud non c'entra nulla e soprattutto a mio avviso la musica non ha confini. A noi piace mettere la musica bella, la musica anni 70, 80, 90, ma anche quella attuale. E ripeto, non ha colore e non ha nord-sud, non ha collocazione politica, non ha collocazione geografica. Però il Salento ha tanti colori della natura e non solo dell'arte. Beh, il Salento, cioè non scherziamo, il Salento penso che sia una delle zone d'Italia più belle. Io anche per lavoro viaggio molto in Italia senza nulla togliere, ma il Salento ha veramente una marcia in più.